Santo Baldesca Taccini Lettura e videografica Padre Tiziano Repetto S.J. O Dio, nostra salvezza, accoglie preghiere di questa Tua famiglia che si rallegra nel ricordo di Santo Baldesca. E fa che profondamente rinnovate nello Spirito si consacri per sempre il tuo servizio per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. O Padre che hai colmato dei tuoi doni la Santa Vergine Valdesca concedi a noi i tuoi fedeli dimorare la sua testimonianza evangelica per essere uniti a te nella gioia dei Santi per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Donaci, Signore di nostro, la fiamma di carità che ne ispirò Santo Baldesca sposa fedele del tuo Figlio ad unare nella famiglia di Vergine a te consacrate a gloria perenne di Cristo e della Chiesa per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. O Dio che ti compiaci stabilire la tua dimora in chi ti serve con cuore semplice e puro facci sull'esempio di Santa Ubaldesca Verge viviano con purità evangelica per essere tempio vivo della tua gloria e averti sempre ospite di noi per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dio nostro Padre che nella testimonianza gloriosa dei Santi doni la tua Chiesa segni sempre nuovi tuoi misi ricordioso fa che sentiamo accanto a noi la presenza confrottatrice di questi nostri fratelli per essere stimolati all'imitazione del Cristo figlio Egli è Dio vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tu solo sei santo, Signore e fuori di te non c'è luce di bontà per intercessione ad esempio di Santa Ubaldesca fa che viviamo una vita autenticamente cristiana per non essere privati dalla tua visione del cielo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. O Dio che hai posto nei tuoi Santi una grande luce e un provinto sostegno alla nostra debolezza concedi anche noi per intercessione ad esempio di Santa Ubaldesca di camminare sulla via del Vangelo per salire fiduciosamente fino a te per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dio nostro Padre guarda questa tua famiglia oppresso dalla coscienza delle proprie colpe e donare per intercessione l'esempio dei tuoi Santi la certezza del tuo cuore misericordioso per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dio nostro Padre guarda questa tua famiglia e donare per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. O Dio che illumina tua Chiesa con l'esempio dei tuoi Santi fa che in testimonianza evangelica di Santo Valdesca ci richiami a una vita più degna ed generosa e ricorda il suo gesto e ci stimoli sempre all'imitazione del tuo Figlio Egli è Dio, vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Santo Valdesca, prega per noi. A presto. Grazie a tutti.